Le campagne di mattino riservano ai visitatori piacevoli sorprese. Né esempio il Giardino Migno, situato in Contrada Pergola, un tempo possedimento dei Marchesi del Tufo, signori del luogo. È caratteristico il portale monumentale arricchito dalle decorazioni in bugnato e risalente al Settecento. Il portale era affiancato da un'antica chiesa trasformata dai del Tufo in una delle tante residenze di campagna. All'interno dello spazio recintato sono ancora visibili alcuni elementi decorativi tipici dei giardini nobiliari, come alcune ghiere di pozzi realizzate nel secolo XVIII. Legato sempre alla storia feudale di mattino è il Giardino Lazzarello, posizionato nell'omonima Contrada. La struttura appartenne ad Ascanio del Tufo e alla sua consorte Beatrice Pignatelli, fatta realizzare nel 1725. Un tempo qui sorgeva un casino, utilizzato dai feudatari per trascorrere in piena serenità i momenti dell'ozio letterario, godendo della frescura della campagna e dei piacevoli scorci paesaggistici. La campagna di mattino è ricca di deliziose suggestioni ed è facile cogliere la bellezza dei luoghi che richiamano la spontaneità e la freschezza di un Salento antico e genuino. Grazie a tutti!